Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. La Lucchese dunque sta preparando la gara di sabato pomeriggio al Porta Elisa contro l'Ancona. Intanto continua a tener banco la vicenda dell'impianto di illuminazione del Porta Elisa. Smaltire la delusione per la sconfitta di Teramo, che perdere, anche contro la prima della classe, non è mai piacevole. Una gara, quella del Bonolis, fotocopia fedele di ciò che è successo in tante altre occasioni. La Lucchese ha confermato pregi e difetti ormai consolidati, almeno per questa stagione. Buona propensione alla manovra e al gioco d'attacco, ma anche pericolose e talvolta ridondanti amnesie difensive, che poi, nel caso di Lappadula e Donnarumma, non era proprio il caso di concedere così in ampie dosi. Tutto ciò Galderisi lo ha rivisitato assieme alla squadra, perché sabato prossimo arriva l'Ancona, nel contesto di una partita che classifica alla mano ancora più importanza delle precedenti. Insomma, a salvezza acquisita e con largo anticipo, la Lucchese deve darsi un altro obiettivo, che è e rimane il miglior piazzamento possibile. Il settimo-ottavo posto pare alla portata di Nolè e compagni, ma sarà fondamentale restare soprattutto tra le prime dieci per garantirsi un posto nella Team Cup. In tal senso il direttore generale Giovanni Galli è stato chiaro, pretende il massimo impegno da tutti per capire chi è da Lucchese e magari anche di fare bottino pieno tra Ancona, tutto cuoio, reggiane e propiacenza. Annotazione finale sulla spinosa questione Porta Elisa, impianto di illuminazione non a norma. Mercoledì il presidente Baci e il sindaco di Lucca Tambellini si recheranno a Firenze per proporre ai dirigenti della Lega Pro un piano alternativo. Una sorta di deroga nella deroga, garantendo nel contempo l'effettuazione dei lavori entro un certo periodo di tempo. Da capire se la Lega Pro sarà disposta a concedere ulteriori sdittamenti. Ancora poche ore e sapremo. Nuova penalizzazione per irregolarità amministrative nel girone della Lucchese. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, presieduto da Salvatore Lo Giudice, ha sanzionato infatti il comportamento del Savona, infliggendo due punti di penalizzazione Liguri a seguito delle segnalazioni della Covizoc. In base a questo e anche alla luce del posticipo Pisa-Spal 0-1, vediamo come si sistema la nuova classifica. Il Teramo con 68 punti, Ascoli 61, Reggiana 59. La Spal al quinto posto aggancia il Pisa a quota 52. La Lucchese ovviamente è ottava con 47 punti, mentre il Savona scivola ancora più al terz'ultimo posto da 35. scende a 33 punti. Lucchese Ancona di sabato, di cui parlavamo in precedenza, sarà diretta dal signor Fabio Schirru di Nichelino, assistenti Alessio Saccenti di Modena e Lorenzo Biasini di Cesena. E completiamo quest'ampia pagina dedicata alla Lega Pro alla Lucchese con i provvedimenti del giudice sportivo. Due giornate a Pastore del Forlì, una Mengoni Ascoli, Colombini Tutto Cuoio, Gnaurè Carrarese, Videtta Pontedera, Cappettarini Forlì, Lazzari Spal, Magnanelli del San Marino, Della Latta del Grosseto, Mingazzini della Lucchese, dunque il forte mediano salterà la sfida con l'Ancona, Soligo San Marino, Taddei Savona. Ammende 1.500 euro al Teramo, 500 euro di ammenda al Pisa. Siamo al Viareggio. Come da tradizione dovremo vedere alcune foto. La stampa viareggina al termine del campionato ha premiato l'allenatore della squadra bianconera, Paolo Tognarelli, in questo caso a pochi giorni dalla promozione delle Zebre in Serie D. In questa occasione però, oltre a Tognarelli, sono stati premiati, li vediamo anche il direttore sportivo del Viareggio, Sergio Carnesalini, e il direttore generale, Beppe Vannucchi, che come di consueto si sono ritrovati nel locale dello sportivissimo Giacomo Beconcini, ex arbitro di Occhi su pista. Qui vediamo una foto generale della serata, ricordando che domani il Viareggio si allenerà congiuntamente al tutto cuoio, squadra della Lega Pro, alle 15.30 allo Stadio dei Pini. Rimaniamo a Viareggio per parlare però di atletica, del Vivi Città 2015, classica gara su strada di 12 chilometri, che si svolge contemporaneamente in 36 diverse città in tutta Italia e che ha visto successo, parlando di Viareggio, di Daniele Del Nista, del gruppo polistico Parco Alpi Apuane. Del Nista ha vinto con il tempo di 40.12, ha preceduto il compagno di squadra Marco Baldini e Stefano Politi dell'Atletica Pietrasanta, in campo femminile, vittoria di Sara Orsi del gruppo sportivo Lammari, di Barbara Balducci delle Alpi Apuane, nella categoria Argento. Siamo ai motori, vittoria nel trofeo Renault Twingo e terza piazza junior per il giovane pilota lucchese Luca Panzani, che così ha rimesso a posto la classifica tricolore alla Sanremo con una prestazione di notevole effetto. Luca Panzani aveva alle note, come sempre, la brava Sara Baldacci e sarà, vi posso anticipare, uno degli ospiti dello speciale rally che Noi TV vi proporrà venerdì sera alle ore 21. Siamo al pugilato, al pugilato giovanile, con il criterium toscano che si è svolto a fatto tappa a Lucca. È stata la nuova sede della pugilistica lucchese ad ospitare il secondo criterium ufficiale del pugilato giovanile della Toscana. La bella giornata di sole e la temperatura primaverile hanno favorito l'organizzazione dell'evento che prevedeva gare riservate alle categorie cuccioli, cangurini, canguri e allievi. Le prove si sono svolte sia all'interno che all'esterno della palestra che ricordiamo è collocata nell'ex succursale del liceo scientifico Valisneri. I locali erano inutilizzati e dopo la ben nota vicenda dello stadio Porta Elisa la pugilistica vi ha trovato temporaneamente rifugio. Ben 17 i giovani atleti lucchesi in gara a cominciare dal cucciolo Leonardo Bruni che è giunto secondo preceduto di pochissimo dal livornese Ilias Sauda. Dominio tutto lucchese invece tra i cangurini con i fratelli Mencaroni in grande spolvero. Matteo ha vinto il derby familiare superando Sascha che però ha un anno in meno e a quest'età conta molto. Alle loro spalle altri cangurini lucchesi Noemi Garofano, Teo Paganucci e Luca Di Memmo. Nei canguri la gara si svolgeva a coppie secondo posto per Lorenzo Frugoli pugilistica lucchese e Niccolò Piacentino dell'Associazione Pugilistica Livornese. Negli allievi la coppia dei gemelli Anthony e Kevin Lopresto era la prima uscita mentre Gabriele Riccardi ha gareggiato con un altro coetaneo di Livorno. Alla manifestazione ha assistito un folto pubblico tra cui abbiamo notato anche il presidente della provincia Stefano Baccelli. Il prossimo appuntamento con il criterium giovanile della Toscana è fissato per il 26 aprile a Livorno. Ecco, per completezza di informazione aggiungiamo, abbiamo detto Di Baccelli che rappresenta anche l'assessore comunale Celestino Marchini. Quinta vittoria consecutiva per il rugby Lucca che torna vittorioso 40-10 dall'insidiosa trasferta di Arezzo penultimo atto della regular season. La squadra aretina ha impegnato Lucca, ma la squadra lucchese dimostrando tutto il suo valore tecnico ed anche agonistico è riuscita a far sua la partita. In realtà Capitan, Giannotti e compagni qualche errore lo hanno fatto e c'è stata anche la prima giornata di vero caldo ma alla fine sono riusciti ad imporsi come testimoni al punteggio con assoluta autorità. Grazie a questo successo i rossoneri conservano il secondo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio sul Cuspisa. Lucca si concederà dai propri tifosi domenica prossima nell'ultima giornata di campionato contro gli emergenti Cecina. All'Acquedotto sarà fondamentale ottenere una vittoria per mantenere questo posto sul podio di un campionato che finora vede Lucca davvero tra le grandi protagoniste. Lo Shotokan Porcari ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia Karate Seng svoltasi a Montecatini Terme in gara oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società porcarese ha brillato nel Catà con una spettacolare prova. Vediamo questa prima foto di Federica Del Carlo che è riuscita a sbaragliare una guerrita concorrenza cogliendo la medaglia d'oro. Oro che è stato vinto anche da Matteo della Ragione nel comitè categoria meno 55 kg. A tutto ciò vanno aggiunti anche una serie di piazzamenti e di risultati ecco qua della ragione. Dicevo vanno aggiunti una serie di piazzamenti e di risultati davvero prestigiosi colti dallo Shotokan Porcari con diversi dei suoi atleti. E con il karate si chiude anche la pagina sportiva di questa serie. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria la TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera. Grazie. Grazie.